Prima si parlava di trasformazione ecologica, a me è capitato spesso in questo periodo per le mie incertezze personali e per quelle che ritrovo nella mia rete di conoscenze di davvero augurarmi che ci sia un'influsione totale, che la nostra vita in questo mondo, questi esseri umani qua, sparisca totalmente dalla terra e si ricrei una nuova città. Cioè, mi sembra davvero l'unica soluzione a questo punto, l'unica speranza proprio. E' una civiltà che ripartirà e rifarà altre scelte e altri errori e si riconoscerà, si riarrivarà. La speranza perché? Cioè, io ci credo in Atlante. Dobbiamo sperare questo. Ma perché dovrebbe essere una speranza? La speranza è che siccome davvero siamo arrivati a un punto limite quasi non ritorno di espossibilità a risolvere, a risolvere, però accettiamo che è finita, è finita. Ma qui la speranza per chi arriverà, non per noi. Cioè, la supervenza della specie contro la speranza della terra, per il globo terrestre. Si farà scaro, insomma. Ma io non capirò quale punto limite si varia. Beh, parlando di transazione ecologica, si è arrivati al punto limite di non sostenibilità del pianeta Terra, della nostra esistenza. Cioè, la prima volta ci saranno... Cioè, la terra non ci sopporta più. Non possiamo più vivere qua, a queste condizioni. Ci saranno mai evolucere tecnologiche. Però secondo me non bisogna confondere poi... Cioè, le emergenze e tutto con poi lasciarsi andare l'inichinismo. Perché poi c'è anche... Ma perché ci sono state... Questo è l'inichinismo? No, però molte utopie poi si possono essere l'inichinismo, cioè si pensa proprio. Però al di là della speranza o meno, dovrebbe essere certo che la razza umana da qui a non si sa quanto... Si va di quello. E forse sia effettivamente quello il momento di svolta oppure di collasso totale. Non si può sapere finché non succede alla fine. Comunque ci sono più probabilità che sopravviva il mondo che non la consaspetta, direi. Ma il mondo sopravvive lo stesso, non in queste condizioni, però sopravvive lo stesso finché il sole non esplode, a meno che non lo facciamo esplodere in qualche modo. Cioè, anche se spariamo l'atomia, la nostra specie non potrà sopravvivere perché c'è il mento di ghiacciare, perché... Ma solo che da lì alla creazione di qualche altra sorta di vita che poi si evolva l'avere un po' dura, però... Questo punto non ci riguarda e quindi, come dire... Non vogliamo fare. Che non ne parliamo neanche, quindi... Per noi è una cosa che non esiste. Se invece vogliamo fare qualcosa, allora il problema c'è. Ma l'unica soluzione per estinguerci è che non ci riproduciamo più. Beh, in questo momento storico penso che fare figli sarà tutto più con gli studi. E non dobbiamo fare. Ma non dobbiamo fare. Farne più di due. Questo non lo so. È un atto... All'attività della fisca che non è che aveva ragione. Mi ha fatto una distinzione. Un atto egoistico non vuol dire un atto negativo. Un atto egoistico vuol dire qualcosa che parte da te e dalla persona, ma non necessariamente qualcosa di negativo. Fare figli in questo momento è un atto egoistico, magari un bellissimo atto egoistico, però è un atto che se tu nel tuo singolo decidi di mettere una persona nel mondo e magari avrà una vita di merda oggettivamente, per una questione climatica, una questione economica, una questione... Tutte le questioni del mondo, ci vuole abbastanza coraggio di avere la presunzione di prendere questa decisione. Poi che sia una roba bellissima o non bellissima, questo è totalmente... Poi ci vuole abbastanza presunzione per avere questo coraggio. Bello, bello. Bello.